Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video qui da Arkamattegri Barra ragazzi e oggi siamo qui per fare il post partita per quanto riguarda le partite della Champions League di appunto di ogni girone che si è giocato appunto di tutte le partite del mercoledì di Champions League ragazzi partiamo subito dal presupposto che io farò poi un video dove vi dirò comunque perché è iniziata la scuola vi dirò come andrà avanti il canale quindi partiamo subito dalla prima partita che è stata Maribor Spartak Mosca io avevo pronosticato un 3 a 1 per la Spartak Mosca invece che namorosamente è 1 a 0 per lo Spartak Mosca che è stato il 59esimo di Sam & Bob io avevo preso un 3 a 1 perché comunque il Maribor lo vedevo un po' più scarso rispetto allo Spartak Mosca invece si è ritrovato un po' al contrario non dico il contrario però comunque il risultato è un bel po' diverso da come l'avevo pronosticato io l'altra partita invece ragazzi è Liverpool-Siviglia qua invece anch'io avevo fatto una cosa avevo detto 2 a 1 per il Liverpool invece qua 2 a 2 perché ricordiamo gol subito al primo minuto al quinto minuto per Benny Heder assist di Scudero mentre poi al 21esimo segna Roberto Firmino ed è 1 a 1 poi al 37esimo segna Momo Salah sul 2 a 1 per il Liverpool ma clamorosamente il rigore sbagliato per quanto riguarda Roberto Firmino al 42esimo sbaglia il rigore e che è costatoriamente molto caro e al 72esimo segna Correa quindi finisce qua sul 2 a 2 poi comunque sto facendo questo video quando stanno all'85esimo però comunque può esserci anche un altro gol vabbè qua invece un risultato che non mi aspettavo io avevo pronosticato un 3 a 0 invece un 4 a 0 per il Manchester City al secondo minuto segna Stones al decimo il Kunagero al 25esimo Gabriel Jesus al 63esimo con assist di Kevin De Bruyne segna Stones quindi non me l'aspettavo aspettavo più un 3 a 0 perché comunque il Feyenoord poteva provare almeno a tenere il Manchester City però comunque si è fatto il Manchester City ha travolto proprio il Feyenoord quindi comunque non alla fine ragazzi è andata così per quanto riguarda invece il Napoli qua non me l'aspettavo ragazzi non me l'aspettavo Shakhtar 2 Napoli 1 gol al 15esimo di Tyson assist di Ferreira mentre al 58esimo segna Ferreira con assist di Stefanenko quindi comunque si va sul 2 a 0 subito ma poi al 71esimo con un calcio di rigore Milik la mette dentro quindi è per adesso ancora 2 a 1 forse potrebbe avere ancora le possibilità il Napoli per pareggiare ma vedremo comunque ancora nel corso del tempo per quanto riguarda invece il girone più facile della Champions è Red Bull Lipsia a Monaco finisce qua 1 a 1 segna al 32esimo Forsberg per quanto riguarda Lipsia quindi è però dopo subito 2 neanche il tempo di esultare per i tifosi di Lipsia al 34esimo segna Tielemann segna Riyuri Tielemann al 34esimo e comunque subito 1 a 1 comunque è un girone veramente molto molto facile secondo me per quanto riguarda il Monaco invece per quanto riguarda l'altro girone l'altra squadra le altre due squadre del girone di G dove si trova l'Ipsia e il Monaco è Porto Besiktas Porto Besiktas finisce 3 a 1 per il Besiktas non me l'aspettavo perché comunque il Porto è una squadra veramente molto ostica mi aspettavo qua avevo fatto un contrario 3 a 1 per il Porto avevo fatto veramente tutto il contrario invece qua è andato proprio tutto il contrario segna il 13esimo con assist di Quaresma Talisca mentre al 21esimo segna Tosic autogol del giocatore del Besiktas mentre al 28esimo poi segna Tosun e all'86esimo Babel comunque veramente il Porto tranciato davanti ai propri tifosi mentre qua ragazzi il girone veramente da ferro di tutta la Champions League partiamo subito dal G1H Real Madrid Apoel Nicosia Real Madrid vince 3 a 0 contro l'Apoel Nicosia un grandissimo Cristiano Ronaldo perché al 12esimo la mette dentro con assist di Gareth Bale mentre al 51esimo segna sempre Cristiano Ronaldo su calcio di rigore mentre al 61esimo segna anche Sergio Ramos e quindi comunque si sa ragazzi Real Madrid sta regnando in tutta Europa mentre per quanto riguarda le altre squadre invece qua comunque ho azzeccato un pronostico perché ho detto 3 a 0 Real Madrid ho azzeccato il pronostico almeno uno l'ho azzeccato ragazzi almeno uno stavo per avvicinarmi al Liverpool e Siviglia che avevo detto 2 a 1 ma poi il Siviglia comunque ha segnato vabbè per quanto riguarda invece il Tottenham contro il Borussia Dortmund siamo al novantesimo segna subito al quarto minuto Eung-Min Son mentre al quindicesimo segna all'undicesimo scusate ragazzi subito dopo segna Yarmolenko con assist di Kakawa mentre poi comunque a spegnere le speranze del Borussia Dortmund segna al quindicesimo Henry Kane mentre al sessantesimo sempre Henry Kane assist di Christian Eriksen e quindi finisce qua il 3 a 1 del Tottenham io qua avevo fatto un 3 a 1 per quanto riguarda il Borussia Dortmund invece l'ho fatto anche qua tutto il contrario però vabbè ragazzi ci sta alla fine comunque ragazzi questi sono i miei pronostici per quanto il mio posto partita per quanto riguarda il tutto il girone di tutte le partite giocate sabato ragazzi ragazzi ha segnato il Maribor ha segnato il Maribor quindi 1 a 1 Maribor Spartak Mosca quindi comunque io avevo sempre pronosticato 3 a 1 se magari fanno un 3 a 1 azzecco il pronostico però ha azzeccato il pronostico del Real Madrid quindi ragazzi questo era il video riguardante il post partita della Champions League fatemi sapere voi cosa ne pensate della partita del Napoli mi dispiace molto pensavo veramente 3 a 1 2 a 1 per il Napoli avevo detto non troppo 2 a 1 però comunque ragazzi non me lo aspettavo fatemi sapere voi forse i napolitani come ve la siete presa noi ci becchiamo al prossimo video e sempre forza io e ripeto l'italiano in Champions un bacio ciao